Ci stanno attaccando! Ci stanno attaccando! Le astronavi nemiche stanno bombardando dall'alto! Stavolta ci è mancato davvero poco! Abbiamo bisogno d'aiuto! E subito anche! E in realtà io ne ho bisogno! Il mio battaglione ha appena disarruzato e mi ha lasciato un guir combattere da solo! Se il nemico non è lì neanche i ragazzi, beh, lo farò io! Non posso resistere al giorno a lungo! Questa è una richiesta di assistenza immediata! Passa e chiuda!